Musica Buonasera e benvenuto all'Onorevole Alfonso Pecoraro Scania, Presidente della Fondazione Univerde. Grazie di essere qui con noi. Ben trovato. Siamo subito dalla politica nazionale, sulle pagine dei giornali si parla molto oggi di questo decreto del fare, io le chiedo un giudizio complessivo su questo decreto del fare, è di fatto blindato dal governo Letta con la fiducia, ci sono le polemiche del Movimento 5 Stelle, cosa c'è in questo decreto e soprattutto cosa manca? Ma innanzitutto c'è questo meccanismo che è diventato anche un po' stantio, cioè chiamare il decreto, allora una volta il decreto si chiama salveità, un'altra volta si chiama decreto del fare, molte volte questi nomignoli dati a decreti un po' omnibus, nascondono in realtà qualche mancanza, cioè il decreto del fare in realtà fa poco. Come spesso in un passato si parlava dell'ambientalismo del fare, io sentivo ogni tanto qualcuno diceva facciamo l'ambientalismo del fare, poi il fare era quasi sempre fare affari, in quel caso era che ne so, facevi gli inceneritori, allora quello sembrava l'ambientalismo del fare. Quando io aprivo mille cantieri per la tutela del dissestito geologico e quindi davo molti più posti di lavoro reali, quello diceva eh però chissà non si parlava. In questo decreto del fare io ho cercato di sostenere per esempio un emendamento che è stato proposto dalla Stato Regioni, che era quello di stanziare 250 milioni togliendoli alle opere stradali, al solito cemento, esattamente per darle alle regioni per fare opere di ingegneria naturalistica, ovvero la prevenzione delle frane, del rischio alluvione e del rischio incendi. Cosa significava? Significava riprendere una tradizione che avevo messo nella finanziaria 2006-2007, di creare qualcosa come, con 250 milioni creavi qualcosa come 500 cantieri, perché fai conto che in molti casi queste sono opere da 300 mila, 500 mila euro, un milione di euro, però sono attività labor intensive, cioè nel senso che mette a lavorare molti lavoratori veri, perché i soldi non si perdono nelle progettazioni, pastoi, eccetera, ma sono opere in molti casi già pronte, che i comuni possono già, o le regioni possono già cantierare, e sono le famose attività di prevenzione, quello di cui si parla sempre quando succede un alluvione, una frane, si dice ah, se avessimo fatto prima l'opera costava 100, oggi costa 1000, dopo che c'è la frana ovviamente ti costa molto di più. Bene, non sono, hanno detto che era una bella idea, l'ha presentata, io l'ho proposta a un deputato di Sinistra e Libertà, il deputato Zanne, che è il capogruppo di Sinistra e Libertà in Commissione Ambiente, l'ho proposta anche agli amici del Movimento 5 Stelle, che però avendo una procedura che fanno le assemblee, eccetera, prima di fare l'emendamento a volte ci mettono più tempo, e alla fine il governo ha detto che era una cosa molto bella, ma che però non potevano spostare, dai miliardi di euro che spendono come al solito, investono nelle solite opere, mega opere pubbliche, non potevano spostare 250 milioni su un'opera di prevenzione, quindi faranno un ordine del giorno, ma non sono riusciti a fare una cosa utile. Ecco, quindi la mia misura di questo che credo è che come al solito, o pasticci tipo quello sul wifi, dove sono riusciti a scrivere delle cose improbabili, che solo dopo la ribellione sui giornali sono tornati a capire che siamo uno dei paesi dove si rischia di non trovare dentro un bar, dentro una cosa un wifi, e soprattutto un turista che viene e ci considera un paese non del terzo mondo, perché io che viaggio, in molti paesi che noi consideriamo in via di sviluppo, il wifi è libero, cioè sono stati in Vietnam dove dappertutto lo trovi il wifi. In Italia con una normativa sbagliata rischiavi di avere ancora queste difficoltà, questo l'hanno rimediato, però è un decreto debole che non sblocca davvero l'innovazione possibile in questo paese e che non investe su cose, ripeto, concrete, come quelle per esempio di attivare la grande energia che c'è, penso appunto alle cooperative agroforestali, eccetera, per fare la prima grande opera pubblica italiana di cui si parla sempre, che è la messa in sicurezza del territorio, cosa di cui ci si accorge solo quando hai normalmente una serie di problemi e dopo ti costa molto di più. Quindi il giudizio, mi pare di capire, è sostanzialmente molto negativo. Non è negativo perché sono chiacchiere e poi io sono anche contrario al fatto che tu blindi la cosa, se fai un dibattito parlamentare devi cercare di accogliere davvero per esempio il contributo di 100 deputati del Movimento 5 Stelle in cui hanno fatto una serie di emendamenti, sicuramente alcune di queste cose tu devi dimostrare che sei capace di accoglierle. Sondiamo il giudizio però anche al governo Letta per quanto fatto in questi mesi e soprattutto sbilanciamoci anche con le previsioni, quanto durerà ancora questo governo Letta? Sono un dibattito italiano che però è un dibattito che assomiglia ormai al calcio, al bar dello sport. Cioè noi siamo in un paese dove dal 2009, cioè da quando l'allora moglie di Berlusconi scrisse la famosa lettera su Repubblica in cui disse che il marito era un personaggio bisognoso di cure, di cose del genere, da quel, credo che era la primavera 2009, noi ogni tre mesi si parla di elezioni anticipate. Cioè da allora si è iniziato a dire, no ma adesso dopo questa lettera il governo cade, poi è venuto il caso Fini, poi è arrivato il governo Monte, sono tutte cose instabili. Abbiamo votato a febbraio, a febbraio, quindi non è che abbiamo votato una... e si dice ogni 15 giorni che, beh adesso vediamo la finestra elettorale di novembre, quindi poiché è un gioco che danneggia anche la capacità di fare un minimo di previsioni, io dico che questo governo mi sembra debole. C'era un bell'articolo sul Corriere della Sera di un autore molto bravo di commedie brillanti, eccetera, che ha detto che in Italia la sensazione è come i quark, ha fatto questo paragone con i quark, perché i quark sono una particella elementare la cui energia è consumata pressoché totalmente per tenere insieme queste particelle. E faceva questo paragone molto carino col governo, dicendo che in Italia il governo, ma molte istituzioni consumano tutta la loro energia a cercare semplicemente di esistere, non di agire. Il PDL cerca di sopravvivere a tutte le guerre interne che ha e quindi poi non fa azione politica, il PD cerca di sopravvivere a tutte le guerre interne che ha e quindi non riesce ad avere il tempo di fare politica, anche il governo sembra che l'esigenza fondamentale è cercare di sopravvivere. Il vero problema, ecco perché poi il decreto lo chiamano del fare, perché poi nella comunicazione si cerca di dire facciamo, il rischio d'Italia non è quando si vota o quando non si vota, è del fatto che invece di proporre una visione, una politica, un'iniziativa, si sopravvive facendo annunci generici, ma poi non avendo una strategia di azione. Ecco perché quanto può durare? Può durare, può sopravvivere anche più tempo, ma per debolezza, non per azione. Cioè questa è la preoccupazione. Sono tutti così deboli che non sapendo cosa fare, potendo andare manco alle elezioni perché non riescono neanche a cambiare la legge elettorale. Ecco appunto questa è la domanda che volevo fare. La priorità non doveva essere la riforma della legge elettorale. Ne abbiamo parlato così tanto, però ne abbiamo visto veramente poco. Ci sono, come dire, anche qua, tutto si consuma in un circuito di comunicazione così flash. Per fortuna poi devo dire che invece l'Italia vede tante iniziative di singoli, di gruppi, di piccole imprese, di professionisti, di associazioni, che comunque il paese funziona a prescindere da tutto questo. Però la sensazione è che da questo punto di vista si lanciano dei... Allora, un giorno la priorità è la legge elettorale, bisogna farla, bisogna farla, poi scompare dallo... Un'altra volta era la legge sui partiti. Non dimentichiamoci che anche per rispondere al fenomeno 5 Stelle Celsi disse la legge sui partiti. Che tra l'altro io ho sostenuto per anni. Cioè nel senso che noi siamo un paese dove i partiti non sono regolamentati e quindi possono essere assolutamente delle satrapie indipendenti e dopo tutto finisce in caos e come la vicenda del patrimonio di Ex-Anne dimostra come il fatto che sopravvive la fondazione che controlla il patrimonio dell'Ex-DS, come è successo col patrimonio dell'Ex-Margherita. Quindi in Italia che ci sia bisogno di regolamentare le formazioni politiche, ovviamente non in una chiave di bloccarne qualcuno o altra, ma di evitare questi paradossi che sono successi, soprattutto sull'accumulazione dei beni. Anche questo è scomparso dallo scenario. La legge elettorale però è un tema indispensabile, perché uno, se no sarà come al solito la Corte Costituzionale, però è molto delicato che la Corte Costituzionale debba intervenire su una materia come la legge elettorale. Anche se non dimentichiamoci che in Italia per anni, per esempio la libertà di informazione, noi siamo qui in una emittente privata, in Italia la cosiddetta libertà di informazione nacque per una sentenza della Corte Costituzionale del 1975. Cioè non è nata con la capacità di fare un dibattito parlamentare normale, pensare qual era la legge che ci voleva per avere un settore di televisioni private e il famoso fenomeno Berlusconi di cui poi si parla tanto, conflitto di interesse, noi ce lo portiamo appresso proprio da quel vizio d'origine. Cioè il fatto che in Italia la libertà di informazione nasce con una sentenza della Corte Costituzionale che consente ai cittadini di comunicare anche per radio e tv come estensione del diritto costituzionale della libertà di informazione e poi invece di avere una normativa organica che dica come tu eserciti queste libertà, tu hai avuto una serie di blitz, per cui tra questi, quello di Berlusconi che inizia prima a farsi una televisione, poi a trasmettere in interconnessione, poi a farsela autorizzare, e noi rischiamo che anche, dico in modo identico, però sulla legge elettorale l'incapacità dei partiti di trovare un'intesa per fare una cosa elementare, cioè consentire ai cittadini di poter scegliere i parlamentari. Perché guardate, il vero vizio è quello, non è solo il premio di maggioranza abnorme di cui si parla, ma il fatto che in Italia una persona che vuole candidarsi e partecipare alla vita pubblica non ha un modo per partecipare, perché le liste sono bloccate, ci sono paesi dove le liste elettorali sono bloccate, ma in quel caso c'è una legge sui partiti che consente al cittadino di poter partecipare a delle primarie vere, non trafficate all'improvviso, interne al partito e dire io come posso un domani voler diventare parlamentare? Faccio attività politica dentro un partito, ho delle regole che mi garantiscono che non mi fregano con un trucco o cambiando la regola sulle primarie nel momento in cui è più utile e posso accedere. Se non c'è questa regola, perché dove ci sono liste bloccate i partiti sono regolati per legge, quindi tu cittadino hai dei diritti stabiliti alla legge dentro la formazione politica, allora devi avere o il collegio uninominale o le preferenze o devi avere un sistema in cui comunque uno possa competere. In Italia siamo arrivati in una situazione paradossale in cui tu hai il Parlamento che sostanzialmente è un Parlamento di nominati che però per poter accedere quindi devono fare i cortigiani, cioè che devono fare questi per poter sopravvivere e devono capire dove si possono candidare. Possiamo dire onorevole in questo senso che l'eminenza grigia del Parlamento risiede in pochi cervelli, poi per il resto tutti si uniformano a ordini che arrivano più dall'alto o addirittura dall'esterno del Parlamento. È esagerato ragionare in questi termini. Non so nemmeno se sono pochi cervelli. Il concetto è che la selezione è diventato un meccanismo strano per cui sostanzialmente tu cosa hai come l'evento vero? Che molti parlamentari sanno di non avere nemmeno, in genere non hanno nemmeno il voto del proprio condominio. Cioè loro sanno di non rappresentare tecnicamente nemmeno 100 persone, 50 persone. Ora è vero che tu puoi avere un sistema in cui tu rappresenti un'idea e non delle persone. Io per esempio ho sempre avuto voti d'opinione, quindi io non ho mai conosciuto i miei elettori, però mi sono sempre dovuto porre il problema di rappresentare, che ne so, quelli che erano per le energie rinnovabili, per le cose. Oggi si è creato un meccanismo abbastanza strano in cui sostanzialmente i parlamentari stessi sanno di essere delegittimati perché sanno che se magari si canti in un consiglio comunale non riesco neanche a legge, perché poi il paradosso è che in Italia contemporaneamente in Parlamento e al Senato sei eletto così, ma al Comune e alle Regioni e al Parlamento Europeo se non hai preferenze e quindi un consenso elettorale non sei eletto, quindi hai una situazione anche strana, perché se allora le preferenze non funzionano perché sono un errore, allora tu dovresti abolirle anche nei Comuni e nelle Regioni, per esempio. Se invece lì hai una selezione in cui il personale tra virgolette che si vuole rappresentare deve avere anche un consenso elettorale, poi è chiaro che devi essere drastico nell'evitare che ci siano voto di scambio, banditismo, quindi dovresti avere un voto prevalentemente d'opinione, però almeno avere una constituency come esiste in tutti i paesi, cioè quando c'è il collegio denominale tu rappresenti una realtà territoriale di persone, allora questo manca e secondo me se non si risolve questo tu hai sempre più una delegittimazione delle istituzioni e la tua domanda è assolutamente coerente, cioè tu cosa dici? Alla fine... Di fatto poche persone decidono la composizione dell'intero Parlamento, Soprattutto sono condizionamenti esterni ma il problema è che non sono manco poche persone, è un sistema disordinato in cui poi i parlamentari, prima succedeva verso la metà alla fine della legislatura, oggi con l'instabilità rischia di iniziare già dall'inizio, invece di preoccuparsi di governare iniziano a pensare ma come faccio ad essere rieletto? Dove mi devo collocare? Chi è che oggi, domani mi può riportare in Parlamento? E quindi tu non hai il problema di dire io lavoro in quel territorio perché cerco di conquistarmi e mantenere il consenso di quei cittadini di quell'area territoriale oppure io voglio rappresentare che ne so, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria, i commercianti, quindi cerco di rappresentare un'area poiché tu sai che il consenso non ti verrà dai cittadini ma ti verrà da qualcuno che ti mette in lista al momento giusto il tuo sguardo di te parlamentare non è rivolto alle persone che tu pensi di poter rappresentare ma è rivolto a capire in quale corrente ti devi collocare in quale forza politica che può avere la possibilità di ricandidarti e quindi hai un sistema diciamo già c'è sempre possiamo dire paradossalmente ci guadagnano i partiti e ci perde la democrazia con tutto questo sistema ci guadagna non so che ci guadagna però sicuramente è un sistema che non funziona cioè tutti gli analisti politici costituzionalisti eccetera come dire sostengono abbastanza unanimemente che quella legge che non a caso può essere stata definita porcellum quindi siamo proprio in Italia dal suo stesso estensore dice quella legge è una porcheria tutti dicono che è una porcheria in tutte le sedi si dice che bisogna cambiarla e poi non lo si fa spostiamoci alla regione Lazio dove le preferenze per fortuna possiamo dire così ancora contano il governo Zingaretti della regione ha stanziato nei giorni scorsi un bando di 75 milioni di euro rivolto alle piccole e medie imprese e agli enti locali per finanziare la green economy particolare e importante questi 75 milioni di euro arrivano dai fondi europei non utilizzati segnali positivi ma io questa vicenda dei fondi europei l'ho sempre ritenuto una vicenda su cui per esempio emittenti come la vostra ma insomma in generale chi vuole fare veramente tentare di fare informazione in un paese dove si fa gossip invece che informazione dovrebbe avere un'attenzione costante perché praticamente le risorse dell'Unione Europea sono nell'ordine di decine di miliardi di euro molte volte noi discutiamo di IMU di cose e poi si perdono magari 10 miliardi 15 miliardi 30 miliardi di euro di fondi europei è positiva questa iniziativa della Regione Lazio perché in realtà recupera ancora il programma operativo regionale 2007-2013 noi siamo nel 2013 alla fine se i fondi non sono stati impegnati alla fine del 2013 credo che l'ultimo calcolo è fatto non so quale giornale nazionale e che noi alla fine dell'anno rischiamo di perdere ormai 30 miliardi di euro di fondi comunitari che ritornano indietro perché le regioni non sono state capace di fare di impegnare questi fondi cioè di dire in cosa possono essere ma come è possibile questo in tempi di crisi economica come è possibile ma è possibile perché noi abbiamo in genere un meccanismo burocratico non soltanto che è un misto tra la politica e la burocrazia che molte volte arriva sempre all'ultimo minuto per decidere come spendere i soldi cioè ci sono infiniti litigi chi tira una parte chi tira da un'altra si tenda poi alla fine di rinviare per non scontentare nessuno ma il rischio che tu alla fine finisci per perdere i fondi perché non sei stato capace di fare una scelta cioè adesso per esempio la regione ha detto io 50 milioni e stiamo parlando di milioni quando a volte questi fondi europei arrivano ai miliardi comunque 50 milioni dice diamoli per come dire l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile parte delle aziende 25 milioni sull'energia sostenibile più o meno comunque tutti sul versante green economy sono 75 milioni il problema sarà riuscire a fare in modo uno che rapidamente il bando venga reso pubblico e che tutte le procedure vengano realizzate però quantomeno loro le hanno impegnate il che significa che possono essere spesi secondo le norme europee nel 2014 perché dopodiché inizia l'annualità l'annualità il programma 2014-2020 e quindi adesso noi dovremmo avere delle regioni che dovrebbero star programmando già cosa fare dal 2014-2020 negli altri paesi non è che alla fine del 2013 si verifica come recuperare quei soldi l'anno prima nel 2013 si inizia a pensare come spenderemo il programma 2014-2020 Onorevole siamo davvero in chiusura c'è un'ultima domanda io vorrei fargliela su quanto lei scrive sul suo blog si ragiona sul Dipartimento al Turismo e le questioni un po' polemiche da parte sua cosa sta succedendo? Il Dipartimento del Turismo è stato ristrutturato ennesimamente perché è stato eliminato di nuovo il Ministero del Turismo è stato fatto il Dipartimento alla Presidenza del Consiglio nel frattempo ristrutturandolo hanno bloccato la attribuzione dei 100 milioni di euro che devono andare alle regioni per una serie di progetti e programmi e quindi mentre si parla che il turismo è la priorità del paese in realtà poi si bloccano i progetti che servono all'attività turistica e una delle cose poi ci sono cose positive tipo sugli OGM abbiamo verificato che per esempio la Monsanto almeno ha rinunciato a chiedere autorizzazione per nuovi mais o semi geneticamente modificati adesso io sto lavorando insieme alla Coldiretti Slow Food e tutte le realtà importanti per fare in modo che la Unione Europea decida anche di revocare adesso che sta scadendo l'autorizzazione che ha dato al famoso mais che è stato seminato per esempio in Friuli Venezia Giulia sul quale finalmente il governo in questo caso ha fatto una cosa positiva anche se ci ha messo più tempo di quello che necessitava nel senso che intanto hanno seminato e il governo ha vietato adesso ribadendo il bando che ho misi nel 2001 cioè che in Italia noi non vogliamo coltivare con gli OGM perché vogliamo tutelare le produzioni biologiche le produzioni tipiche italiane quindi gli altri paesi lo stanno ancora facendo io spero che riusciremo a convincere anche l'Unione Europea intera a diventare un continente OGM Free Onorevole noi la ringraziamo di essere stato qui con noi e contiamo di riaverla presto nei nostri studi Buon lavoro a voi e un saluto agli ascoltatori grazie 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 a tutti Grazie a tutti.